Prima giornata aureggio della mobilità, 13.47 Caldonazzo. 14.30, siamo a Trento in orario, ecco lo stadio di Mille Battaglia. Andiamo in direzione Bolzano. Grazie a tutti. 15.30 e siamo arrivati a Bolzano. 15.30, si prosegue verso Bressanone. 15.30, siamo arrivati a Bressanone e andiamo a vederci i mercatini in città. La caldonazza a Bressanone sono due ore e mezza. 15.30, siamo arrivati a Bressanone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.